mi trovo qui grazie al suggerimento di un carissimo amico e dopo aver girato tanti centri sia di ortopedia che di osteopatia sono approvata al centro Kerifos, è la quarta volta che vengo e la mia situazione è notevolmente migliorata, ho grossi problemi maggiori prima chiaramente al ginocchio, sono stata operata due volte nel disco e si è formata una grossissima artrose al mio ginocchio sinistro che mi limita moltissimo mi ha limitato moltissimo e da quando ho cominciato questa terapia con il dottor Conti ho riscontrato notevoli miglioramenti, la mia gamba sinistra e il mio ginocchio sono reintegrati nell'equilibrio del mio corpo, uso il ginocchio con molto meno dolore e veramente mi sembra impossibile di aver raggiunto questi risultati così positivi dopo tanti anni, tanta fatica, tanto dolore e tante limitazioni quindi sono più soddisfatta di questa terapia e la consiglio vivamente a tutti